Amici, mercoledì brindate con noi! Canale 5, Italia 1, Rete 4, festeggeranno insieme l'arrivo dell'anno nuovo con un super capodanno. Dalle 19.30 alle 22.30 la festa sarà qui in casa nostra a Studio 5. Poi dalle 22.30 saremo tutti ospiti di Gioni Dorelli a Premiatissima, dove aspetteremo la mezzanotte. Due case, la stessa grande famiglia di amici. E ci saranno tutti, ma tutti, 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 oh, ma proprio tutti, eh! Corrado, Maurizio Costanzo, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Claudio Lippi, Marco Pedolin, Insomma, i volti più amati. Ma non mancheranno le donne più affascinanti della televisione. Carmen Russo, Amanda Liri, Vazzanicchi, Nadia Cassini, Loredana Bertè, Susanna Messaggio, Licia Colò. E infine i nostri comici. Gigi Andrea, Faletti, i 3-3, i Gatti, Teopoli, Gaspare Zuzurro, Greggio, Gianfranco D'Angelo, Lello Arena e udite, udite, Roberto Benigni. Vi piace come programma? Allora vi aspetto tutti. Ah, naturalmente con la bottiglia.